eccoci qua a black hole e ci siamo e via ragazzi oddio che caldo mazza è caldo qua dentro è un forno è un forno raga non vedo un accidente ecco ragazzi oh che bella rietta finalmente ragazzi e non va così veloce ok io sono pronto stai filmando si esatto anche così o così si e via e sto filmando e la ciao un po rilassante non c'è niente da dire è la colità è la colità wow wow mazza che botta si è finito che cavolata ahia porca paletta non scendere non so cosa avete visto lì faccio già partire la ripresa eccoci io ce la faccio pure io raga lo faccio per voi lo faccio per voi eh per youtube solo per voi eh buona fortuna a voi ragazzi loris 98 yes sono io buona fortuna a voi ragazzi mamma mia mamma mia allora allora così tanto mettiti in tensi ecco raga raga tenete i pugni eh che figata assurda mamma mia ragazzi guarda cosa ho fatto ok ci siamo speed rule ultimo scivolo della giornata pronti ragazzi e via con lo speed rule oh 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 uh oh all'indietro ragazzi perchè all'indietro no adesso mi giro no oh oh non ho mirato il buco ragazzi non ho mirato il buco un accidente al buco vai indietro mi son ribaltato ragazzi bene bene ragazzi